Siamo qui nel Rione Monti, siamo venuti a fare una passeggiata in queste strade antiche piene di botteghe artigiane e botteghe storiche, che purtroppo stanno soffrendo un periodo non molto facile. Con molto coraggio partono avanti attività che spesso vengono tramandate da generazioni, quindi sono il vero tessuto culturale, sociale, economico e produttivo di questa parte di Roma. Noi vogliamo lavorare al loro fianco, vogliamo difenderli e dare valore a queste attività. Pensiamo anche per esempio di rilanciare una città dell'artigianato e abbiamo tante proposte che abbiamo costruito nel tempo anche con il loro aiuto. Aiutateci a renderle possibili.